Sia lodato il cielo ho intitolato questo video, bene sì, perché oggi parleremo del tanto atteso paretesi che avevo detto già in passato. Prima però di iniziare e approfondire su questo discorso parleremo anche di McKennie, attenzione, vi invito come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perdete mai un video e siamo sempre live. Poi mi raccomando scaricate questa bellissima app tutta italiana numero 10, l'app del calcio numero 1, calcio maschile, la serie A ovviamente, la vostra squadra, il cuore che volete, calcio mercato e soprattutto mondiale. Scaricate i link in descrizione in questo video del mio canale. Lesi d'incendementi, madame messia, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno, ebbene sì, la Juve non riscatterà Leandro Paredes e io l'ho detto, sia lodato il cielo. Un giocatore che non mi ha fatto mai simpatia, dico mai, come voi sapete io sono diretto, sono aperto, metto la faccia, non metto le mani e parlo. Io lo dico, a me non mi sono mai simpatico, è un altro che non mi sta simpatico e di Maria, ma ci arriveremo in qualche video in futuro. La Juve si è resa conto che sborzare 27 milioni di euro per un giocatore che finora ha marcato solo assenze su assenze per farsi un mondiale che sia lodato il cielo, non sta neanche giocando da protagonista perché per filo il suo GT ha deciso di metterlo un po' in panchina. Perché un giocatore che questi soldi non li vale assolutamente, la Juve sta dicendo, io che me ne faccio di Leandro Paredes quando non abbiamo giocatori più validi e più vivi al centrocampo. Cioè, Paredes per Paredes faccio giocare Locatelli tutta la vita. La Juve cosa pensa? 27 milioni che la Juve può investire su Milinkovic, Savici. Un altro discorso che poi tratteremo ancora in futuro, signori miei, ci arriveremo perché la Juve sta studiando bene, cerca i soldi, i soldi che deve spendere per Leonardo Paredes, Leandro, scusate, Leandro, Leandro, non mi ricordo neanche il nome, talmente non mi sta simpatico, ma va bene, lo stesso. Questi bei 27 milioni li possiamo investire diversamente su un giocatore innanzitutto che ama la maglia, non che si nasconde per farsi il suo bellissimo mondiale, l'abbiamo già detto. La Juve si fa dei conti in tasca. Tra il non riscatto di Paredes è, attenzione, una buona cessione che riguarda lo stesso McKennie che ne avevamo parlato. La Juve raccimola un bel gruzzoletto che può investire su Milinkovic, Savici. Attenzione, possono essere voci, ma può essere anche la Juve stessa che sta trattando, perché molte testate giornaliste che hanno detto che addirittura c'è l'accordo tra giocatore e Juventus, ma prima di mettere la mano nel fuoco, fermi, fermi tutti, mettiamo la mano nel ghiaccio e raffreddiamoci un po', perché non vogliamo correre e essere troppo affrettati a dire, ah la Juve ha già preso Milinkovic, fermi tutti, perché Milinkovic gli scade il contratto, se non erro, giugno 2024. Ancora c'è un anno e mezzo, ma lo titolo non può rischiare di perdere la zero, questo abbiamo già detto, ma la Juve sta mettendo su un progetto. Qual è il progetto? Il progetto parte proprio dal fallimento dal giocatorino Leandro Paredes. Si dice, io non lo riscatto, mi risparmio questi quasi 30 milioni, più, vediamo se altri 30-40 li possiamo tirare con McKennie, perché sta facendo un mondiale dove lui, è ovvio, negli Stets, con la squadra degli Stets, si mette in evidenza, è anche più facile, però questo facilita che qualcuno arrivi, specialmente i sirene tedeschi. Attenzione, il Borussia Dortmund è su McKennie, questa voce ho sentito, è la voce dove mi è arrivata, la fonte dove mi è arrivata, non sbaglia. Attenzione, perché la Juventus è messa in un mondo, oggi messa bene, perché c'è in dirigenza, in società, un certo, un certo arriva bene, che non scherza con nessuno. Se qualcuno non gli va bene, bene, lo prende e lo caccia via. A me mi piacciono così i dirigenti, devono essere schetti e diretti. Gli errori sono stati fatti, sicuramente, non tanto perché ancora qualcuno rimagina meglio tenersi Di Bala che prendere Di Maria. No, Di Bala abbiamo fatto bene innanzitutto a mandarlo via. Un giocatore che siamo onesti. Gioca una partita sì, una partita no, una partita no e una no, non abbiamo cosa farcene, che poi sbagliamo ancora di più, che prendiamo Di Maria, che non è il sostituto di ruolo, lo so, ma non è che Di Maria, no, però abbiamo preso per ringrazzare Di Bala questo signor Di Maria che non sta arrendendo per niente. E su Di Maria, come dire, trovo il collegamento, lo trovo lì, dove posso dire, chissà mai se la Juve si mette in testa, di cacciarlo già a gennaio e dirgli Di Maria, che ne pensi se inizia andartene a giugno, te ne vuoi andare anche a gennaio, vedi, ti apriamo le porte, e BJ ti sponsorizzerà, sponsorizza te, sponsorizza Paredesi e sponsorizza anche McChicken americano, McDonald, McKennie, di andare via. Chissà mai, bello, già a gennaio una bella sorpresa, questi tre li possiamo andare via, perché io sono onesto, non li vedo da Juventus, non li vedo da Juve. Già le buone notizie sono arrivate già ieri, una, con Hilding Junior il quasi rinnovo, brutte notizie del rientro di Arthur e purtroppo di Zaccaria, ora ci manca solo che riscattiamo Paredes, meno male, tra le brutte notizie arrivano anche le belle, bene sì, questi soldi la Juve le deve investire bene, ma un centrocampista, come dico sempre, che faccia la differenza, e Milinkovic, Savic, può essere il centrocampista che ci faccia fare il salto di qualità, ma la Juve non perde d'occhio le fasce, è lì dove siamo carenti, ma lì signori miei vi invito a guardare i prossimi video, perché la Juve sta pensando proprio di virare, sia a sinistra che a destra, sta mettendo le ali la Juve, sta mettendo le ali, perché la Juve ad oggi è senza ali. È vero che abbiamo fatto già un bel motore, il bel motore si vede già con fagioli, lo stesso Miretti non è male, Locatelli sta svegliando, dietro abbiamo le turbine difensive che non fanno più entrare gol. Ma per volare ci vogliono le ali, è le ali bene la Juve, sta studiando, arriveremo alle ali, ma piano piano la Juve in mano a un progetto, lo sta studiando per bene, il progetto lo dico sempre, è un progetto giovane, ma qualcuno di esperienza a centrocampo ci vuole. Occhio, il progetto di centrocampo mi viene in mente Pulpogba, Pulpogba dicono che proseguono bene le sue terapie di guarigione, lo spero veramente, anche se sono onesto, non ci credo tanto che Pulpogba possa tornare così nei prossimi mesi ad essere decisivo, non ci vedo molto bene, innanzitutto mi dispiace tanto per il nostro Danilo che si è fatto male il nazionale, io a Danilo, come sapete, io a Danilo ce l'ho nel corazón e ci mancherebbe altro il nostro capitano futuro, si è fatto male, ha avuto addirittura una lesione al legamento della caviglia. Non è una buona cosa, però addirittura dice che il Brasile lo può recuperare addirittura nelle prossime partite, forse già gli ottavi di finale, perciò la cosa che mi interessa di più è che ci sarà Danilo già pronto e vivo per gennaio, il 4 gennaio, quando ripartiremo alla grande già con la ripresa del campionato. Signori miei, non voglio tenervi tanto, non voglio annoiervi tanto, volevo ricordarvi come è la situazione della Juve che si sta organizzando. Bene, parete su una bella notizia, la Juve non lo riscatterà, non butteremo questi soldi e occhio, perché a gennaio una grande sorpresa può arrivare, si chiama Angel Di Maria, nei prossimi video ne parleremo insieme. Signori miei, come sempre, iscrivetevi al canale se lo avete fatto, like, commentate e attivate la campanellina. Vi voglio bene, ossa benedica a tutti, i minivaiu, ciao! Di Maria, vai via, mi fai un favore, paretesi con Di Maria, via! Ciao!